tanto hanno cambiato la moto no 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 dopo dobbiamo fare il quadro ancora no no vai giù di qua siamo in strada e basta Sergio se volete fare la finetta vai su di qua e arrivi là dritto se vuoi allungare ah va dai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.